Veniamo a far conoscere l'attività che stiamo svolgendo più in generale, su ampia scala, per quel che riguarda le politiche del lavoro. Tutto il programma di garanzia occupazionale del lavoro, quindi le opportunità che le persone disoccupate hanno da potersi mettere in gioco sui territori, a contatto con i nostri centri per l'impiego, ma anche la novità di questa convenzione che noi facciamo con le agenzie di ricerca del lavoro private, in modo da concorrere insieme, non più come concorrenti tra pubblico e privato, per inserire le persone nei luoghi di lavoro. Il sostegno alle imprese che noi diamo nel momento che loro assumono delle persone, il contatto con le imprese, con il mondo dell'imprenditoria, che ci deve far capire bene che tipo di figure gli servono, in modo che noi possiamo orientare i nostri corsi di formazione verso le reali esigenze del mondo dell'imprenditoria, perché magari a volte può succedere che noi facciamo corsi di formazione per determinate figure che poi magari non sono esattamente quelle di cui le nostre imprese hanno bisogno. Ecco, tutta questa serie di attività noi le veniamo stamattina qui ad illustrare a Pesaro, lo faremo anche in altre realtà della nostra regione, è un po', ripeto, in concomitanza anche con quelle altre tipologie di incontri, ma è tutto un arricchimento complessivo, più ci si confronta e più è positivo ovviamente.